Cominciai a scattare una serie di foto dell'avvocato che litigava con questo addizio. Ma c'era un uomo. Un uomo che non conoscevo fino a qualche giorno fa. Sai se qualcuno poteva avercela con lui? Ma non è stato un incidente. Toccava l'omicidio. Secondo te perché ti ha chiamato? Perché ti ha chiesto di servirlo? Parlava di qualcosa di grosso che stava per succedere. Chi è il terzo uomo? Stai in campana, Corso. Non è più roba per te. Hanno paura. E hanno ragione.